Devi fare un lavoro per me, lo zingaro è negro, se ne va a mangiare. Hai permesso? No, io non vado più. Io te capisco che stavi in conco. Che stavo a vicinanza? Stiamo a sentire. Da quante settimane stai così? Che settimana, ieri? Sono anguinato, sono svenuto. E che? Mi sono sentita come riemergere. Vado a toccare in un modo particolare. Se non lo sai te, io ero morta. Racconti su questi modi. Ma questo è un inglese. La presa fa? Beh, ci stanno le figure. Io dico che puoi aiutare pure gli altri. Meno che lo devi fare gratis, eh? Ma perché il dentista non lo paghi? Qua ci abbiamo due sotto psicofarmaci e un'accumulatrice sediabile. Sei un angelo. Mi hai salvata. Tu devi capire, mio marito è malato. Lui prendete tutti i soldi, gioca a macchina. La ragazza mi ha portato. Questa è un coglione. Che gli faccio io? È avvenuto uno da me. Mi ha fatto un sacco di domande. Voleva sapete quella notte? Con una muori, con l'altra no. Se mi rispondi ti lascio quella buona. Ho passato la vita a dare la graccia agli impostori. Se ti spacci per santo, tendo a prenderla piuttosto male. Ho sottovalutato sto dono che c'hai. L'effetto che fa sulle persone. Se si convincono che esiste un mondo migliore, allora per te so cazzi. E questo non può essere. Sono sempre stato quello brutto, quello che meno. Non ci ho mai pensato che posso dare a gente un po' di speranza. Che insieme decisero cosa fosse il bene. Decisero cosa fosse il male. Perché sei qua? Non ci riesco, troppa gente. Per favore, tutti quanti... Sì, però funziona. Però che funziona, vediamo, vai. Sì, però outcomes. O nici. Grazie a tutti.